Appuntamento con le previsioni del tempo su informazioni dell'area previsioni meteo della protezione civile della regione Campania. Sull'Italia è presente un campo di alta pressione di matrice africana che farà gradualmente aumentare le temperature. Ed ora uno sguardo al tempo previsto nel weekend in Campania, sabato 30 giugno, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con locali annuvolamenti pomeridiani ma con scarse probabilità di precipitazioni. I venti ispireranno deboli variabili con moderati rinforzi di brezza durante il pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso, mosso nelle ore centrali della giornata. Le temperature invece aumenteranno lievemente. Per la giornata invece di domenica, primo luglio, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. I venti ispireranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali con rinforzi di brezza durante il pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso, localmente mosso soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le chiudiamo invece con le temperature che aumenteranno ulteriormente. Ebbene con questo è tutto, a me non resta che augurarvi un ottimo proseguimento di serata.